Che si tratti di lunghi viaggi o nei normali viaggi urbani, il Driving Experience Control garantisce un piacere di guida variegato in base alle vostre preferenze personali. Potete scegliere fino a tre modalità di guida, Sport, Comfort ed Eco Pro. Nella modalità Comfort, la messa a punto dei componenti del telaio garantisce un'esperienza di guida particolarmente confortevole. Nella modalità Sport, tutte le impostazioni di guida e sospensioni sono orientate verso uno stile di guida sportivo. Nel complesso, la reazione del veicolo è più ferma e diretta. Per contenere i consumi, la modalità Eco Pro regola in modo intelligente le funzioni clima e comfort per gli interni. Con i servizi digitali BMW Charging sarete sempre informati sullo stato della batteria e sulle prossime stazioni di ricarica.